In questo momento abbiamo Alfano che con queste modalità assurde e assolutamente surreali e fuori legge per alcuni, blocca le trascrizioni e addirittura pretende di cancellarli. E il nostro Presidente del Consiglio non dice niente. Alfano in questo momento sta agendo a nome del Governo e sembra che il Governo sia d'accordo, visto che nessuno si mette in mezzo. Noi vorremmo sapere dal Carlo Renzi che cosa ne pensa di Alfano, che cosa ne pensa di questa azione che va in teoria in controcorrente rispetto alle sue dichiarazioni. Renzi è lì che ci promette da mesi una legge sulle unioni civili che ancora non si capisce che forma possa avere e questa legge per le unioni civili, oltre a non vedersi, è in assoluto contrasto con l'azione di Alfano. Noi ci chiediamo qual è la linea del Governo, è la linea di Alfano o è la linea di Renzi, perché quella che vediamo per ora è solo la linea di Alfano e questa cosa non ci piace.